Dottor Vittorio Camardese Buonasera Io la ringrazio molto per essere venuto Io la ringrazio a lei per avermi invitato È vero che viaggia molto lei Beh, non è che sia mia la chitarra, l'ha chiesto un prestito Ah, perché lei non viaggia? Non ho la possibilità perché Secondo, prego Grazie Perché vivo, lavoro in ospedale, allora non mi è consentito È naturale Dove lavora lei? Al San Filippo A Roma? A Roma, sì Ha dovuto chiedere un permesso speciale per venire qui? Beh, in verità sì perché ho dovuto chiedere il mio primario Chi è il suo primario? Il professor Giacobini Perché non è ritenuto dignitoso per un medico suonare la chitarra? No, non per questo perché è un fatto così di costume, di educazione L'ho ritenuto opportuno È radiologo? Radiologo, sì Dunque, mi hanno detto che lei ha un sistema particolare suo di suonare la chitarra Un metodo, una tecnica speciale Dicono sì, non lo so, io ho sempre suonato in questo modo Lei ha studiato da solo? Sì, sono autodidatta Non conosce la musica? Non conosco musica Vogliamo vedere praticamente che cosa è questa? Sì, sì, ecco La tecnica consiste in questo Che io, invece di pizzicare la corda La percorro Sentiamo una... Sì Un pezzo Cos'è? Un mambo Un mambo, sì Sì, ecco Un mambo Sì, ecco Sì, ecco Grazie a tutti. 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 E' interessantissimo anche vederla suonare. Con questa specie di corna lei si tocca, è slendice e per vuoto il tasto. E' un'invenzione, la brevetta. Non ancora, la ringrazio infinito. Io ringrazio lei. Spero di non aver bisogno di lei, ma non si sa bene la vita. Arrivederle, grazie. Grazie infinito. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.